allora una cifra di armi finte una cifra proprio a bizzeffe guarda a me il beat e rap tuo mi può pure piacere però voglio dire vuoi fare un video con tutte armi poi però cioè effettivamente uno ti guarda in faccia e vede che non è che hai tutta sta faccia da ma c'è una faccia pulita un po è un contrasto tra le rime che fai e il personaggio le clip che avete appena visto sono degli clip dove il cicoria va ironicamente a ractare ad alcuni brani di rondo solo che rondo non l'ha preso bene ha infatti postato sul suo snapchat una story dove ci va più pesante spiegando che prima provava rispetto per lui come rapper perché appunto è stato uno dei primi a farmi soltanto le reaction e alla fine chiude in bellezza con un sembri l'uomo lucerto da tossico cicoria ovviamente risposto sul suo instagram continuando a scherzarci su perché alla fine insomma non è che è morto qualcuno scrivendo giovane rondo e che è il big pianto mitra pistola e due milioni di rolando ma non riesce a reggere due battute ironiche in un podcast e invita i fan di rondo a non venire da lui a piangere nei dm ma andare dal proprio idolo e fargli una carezza stiamo a vedere come continuerà la cosa nel frattempo fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio ciao